la votazione finale assegnata a questo prodotto di ledmo è di 7.8 voti su 10 risulta al momento essere il più venduto online ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono leggero ottimo rapporto qualità prezzo rilevamento del movimento impermeabile luminosità controllo remoto se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di foio e di 8 su 10 per questa categoria risulta al momento essere il più votato con 828 valutazioni globali le caratteristiche principali sono ottimo rapporto qualità prezzo luminosità rilevamento del movimento controllo remoto durata della batteria se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video questo prodotto realizzato da ledmo ha conquistato una votazione di 8.2 su 10 punti totali al momento è il più esclusivo di questa selezione riteniamo questo prodotto un buon modello adatto alle esigenze di chi cerca qualcosa di semplice ma allo stesso tempo efficiente se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video la valutazione finale assegnata a questo articolo di baccaggi è di 8.6 voti su un totale di 10 in questa selezione risulta essere il migliore i suoi pregi sono leggero stile ottimo rapporto qualità prezzo facile da montare in basso nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto la valutazione di questo prodotto di flm e di 7.8 voti su 10 risulta essere al momento il prodotto più regalato le sue principali funzionalità sono luminosità rilevamento del movimento controllo remoto trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video vid axel con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 8.2 su 10 è il più desiderato questi sono i suoi punti di forza stile ottimo rapporto qualità prezzo in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato grazie a tutti